è tutto pronto per il natale meri presto sarà natale riceveremo tanti regali sì però che ci mettiamo bisogna scegliere un vestito al più presto eh già che te ne fare di questo? te lo sei già messo l'anno scorso oh sì me ne ero completamente dimenticata devo ordinarmi una nuova spada come regalo e a me servono degli pneumatici nuovi questi ormai mi stanno piccoli libertà in che anno siamo? un albero di natale un albero di natale la neve dunque perché nessuno mi ha invitato a festeggiare il natale? ve la faccio vedere io ehi linda che cos'è quell'uovo giocattolo? ah questo è il grinch era scomparso da un po' e lo stavano cercando che buffo non c'è niente di buono da aspettarsi da lui non ci sarà nessun natale ehi che stai combinando? questo è il nostro albero di natale che disastro il natale è in pericolo adesso gliela facciamo vedere prendi questa e questa ehi che mi lanciate oh fermi sta arrivando qualcuno ma perché i giocattoli sono caduti? ecco il Grinch eravamo convinti che ti fossi perso finalmente mettete qui bene in vista uff se n'è andata ragazzi non prendetevela con me ok? è solo che ci sono rimasto male che tutti si sono dimenticati di me va bene va bene giocheremo con te sicuramente sì e ci aiuterai a scegliere i vestiti per Natale con piacere grazie a tutti Grazie a tutti.